Proseguono anche se a Rilento e a Stralci i lavori per la riqualificazione nella zona dell'ex aeroporto di Fano da parte dell'amministrazione. Dopo l'acquisizione dell'intera area di proprietà del demanio militare da parte del comune, con successivo concorso di idee aggiudicato dallo studio Silva su una nuova funzionalità e visione dell'intera superficie, sono iniziati alcuni giorni fa la messa a dimora di diverse specie di piantine che andranno a formare il grande bosco a fianco di Via Papiria. A seguito di quel concorso di idee abbiamo anche predisposto un piano particolareggiato per quest'area che prevede in questa zona proprio adiacente a Via Papiria la possibilità di realizzare un bosco urbano che finalmente mettiamo di mora in questa stagione invernale facendo anche seguito a una manifestazione di interesse che abbiamo emesso a cui ha partecipato una società Arbolia che è una società del gruppo Snam Rete Gas che ci regalerà e sta eseguendo in questi giorni i lavori per piantumare circa 5.000 piante. Lo abbiamo fatto realizzando una fascia verde in questa zona appunto verso Via Papiria, ne sarà realizzata una seconda proprio lungo Via Papiria a spese di società autostrade ma questa è una realizzazione molto importante perché si occupano sì una piccola parte di tutta l'area vastissima del campo d'aviazione con una composizione appunto di arbusti del 30% rispetto alle piante che saranno il 70% e il lavoro si sta eseguendo in questi giorni ed è completamente finanziato per un costo complessivo di poco meno di 300.000 euro dalla società Arbolia che si avvale anche della sponsorizzazione di terzi. L'attecchimento verrà eseguito per i primi due anni dalla società che si sta occupando dei lavori ha continuato Fanesi per poi passare in mano al comune. Inoltre sottolinea il vice sindaco non sono previste potature importanti proprio per fare sviluppare al meglio le piante. Un progetto importante, noi vogliamo che quest'area sia vissuta, vogliamo renderla gradevole, vogliamo seguire quello che è il concorso di idee che abbiamo bandito e che ha vinto lo studio Silva e crediamo di realizzare un grandissimo polmone verde a due passi della città in maniera tale che venga fruito e insomma non resti chiuso e distante dai giri delle persone e dalle frequentazioni delle famiglie.